Mestiere difficile parlare, prendere la parola dopo il generale Goretti, quindi tanto mi associo a quello che ha detto il generale Goretti, a tutti i saluti ovviamente a 360 gradi, autorità civili, religiose, militari, reparti schierati, associazioni combattentistiche d'arma, gentili ospiti e cittadini. Mi unisco ai saluti, come ho detto, e porto a tutti il simbolico abbraccio delle donne e degli uomini di tutte le forze armate. A lei signor Presidente della Repubblica, con l'espressione dei più elevati valori costituzionali, rivolgo un ringraziamento affettuoso e deferente per la sua presenza odierna. Signor Presidente della Camera, grazie per essere qua con noi. Signor Presidente del Consiglio, la sua presenza qua oggi c'è onore e ci rende felici. Signor Ministro, ancora una volta grazie da parte di tutti i membri delle forze armate per la sua presenza costante e per la concreta attenzione che ci rivolge, oggi come in ogni circostanza. Il valore indiscusso dell'arma azzura trova testimonianza nei solenni riconoscimenti ed onoreficenze ricevuti negli anni, tra cui oggi spicca quella di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia alla bandiera di guerra dell'Aeronautica Militare nel centenario della sua Costituzione. Rendo omaggio al Tricolore e ricordo con commozione i nostri caduti. Sono eroi coraggiosi e silenziosi che abbiamo pianto anche pochi giorni fa e ricordo anche coloro che sono stati feriti nell'adempimento del loro dovere, i nostri veterani. La memoria del loro agire ci guidi nel quotidiano adempimento dei nostri doveri, nella duplice veste di militari e di cittadini della Repubblica Italiana. Oggi siamo qui a celebrare il centesimo anniversario dell'Aeronautica Militare, una istituzione straordinaria che è parte integrante della storia d'Italia e che io e tutti gli italiani guardiamo con ammirazione, rispetto e sentimenti di profonda riconoscenza e gratitudine per quanto le donne e gli uomini della squadra azzurra hanno fatto e fanno quotidianamente per il nostro Paese e per la sua sicurezza. Bellissimi e toccanti sono i pensieri che ha espresso il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il Generale Goretti. Sono parole che vengono da un'anima colorata di azzurro, un azzurro di un'intensità straordinaria, come straordinario il suo impegno nella cura della Forza Armata. Luca, per questo noi ti siamo e ti saremo sempre profondamente grati e riconoscenti. Il tuo è un lavoro prezioso, a vantaggio e beneficio di tutte le istituzioni del Paese. Questa per me è un'occasione importante per ringraziare anche i Capi di Stato Maggiore che ti hanno preceduto e che hanno contribuito alla costruzione di questa eccezionale realtà, l'Aeronautica Militare. L'Arma Azzurra e tutti i suoi componenti sono dunque i protagonisti di questa giornata straordinaria, un momento di festa e di orgoglio nazionale per tutti gli italiani, in patria e all'estero. Vorrei condividere alcune riflessioni, ma lo farò rinunciando per un attimo alla mia veste di Capo di Stato Maggiore della Difesa, per pormi idealmente accanto ai nostri concittadini. Vorrei guardare all'evento di oggi nella loro prospettiva, provando a raccontare le sensazioni, quelle che io stesso ho provato fin da ragazzo, in preda a quell'emozione che assale tutti noi al rombo dei motori e alla visione della nostra pattuglia acrobatica che riempie l'orizzonte. Sono sguardi di ammirazione e di orgoglio. La conquista dei Cieli è stato un passaggio nella storia dell'umanità che non abbiamo mai veramente metabolizzato e che non finisce mai di sorprenderci. L'Italia, grazie all'Aeronautica Militare, dimostra ogni giorno di muoversi con piena padronanza in questo ecosistema straordinario, grazie alla disponibilità di mezzi e tecnologie all'avanguardia, ma soprattutto di personale altamente specializzato, motivato e qualificato. Noi cittadini sappiamo che il Cielo è la porta di accesso allo spazio, un'altra sfida molto impegnativa per il genere umano, dove la nostra aeronautica militare da tempo svolge un ruolo fondamentale, grazie alle sue donne e ai suoi uomini impegnati con successo, nelle principali missioni spaziali e internazionali. Noi oggi abbiamo bisogno di sentirci protetti, proprio perché sono nitide le immagini di una guerra terribile nel cuore dell'Europa. Sappiamo che qualcuno vola e veglia su di noi e sulle nostre famiglie. Noi nutriamo sentimenti di riconoscenza e gratitudine, siamo consapevoli e ricordiamo come nei momenti di grande difficoltà e di emergenza, di giorno come di notte, in tutte le condizioni atmosferiche, i veribili del personale della nostra aeronautica militare sono lì, pronti a garantire il soccorso e il trasporto, cito soltanto la pandemia Covid, i vaccini, il trasporto di organi, quello dei malati, momenti in cui la tempestività può fare la differenza fra il sollievo e la disperazione. Noi sappiamo di poter contare sempre su di voi. Questo quadro, oggi magnificamente dipinto da voi tutti, vede anche gli sguardi di tanti padri e tante madri che guardano all'aeronautica militare, come alle altre forze armate, intravedendo un'opportunità di crescita etica e professionale per i propri figli, le proprie figlie e per tutte le generazioni future. Sono tanti, troppi i giovani che lasciano il nostro Paese alla ricerca di prospettive e di un sistema di vita basato sul merito e sulla professionalità. Ora mi rimetto le vesti del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dico che questa nostra sfida si gioca sul piano degli incentivi, su quanto sapremo essere attrattivi e sulla proposta di modelli sociali basati sulla trasparenza e sulla valorizzazione delle capacità individuali. Le forze armate continueranno a essere una risposta concreta. I giovani sono la vera ricchezza del Paese e delle forze armate che, come dimostrano anche i recenti concorsi che abbiamo bandito per la formazione di ufficiali nei settori cyber e spazio, sono attente alle loro capacità, proponendo percorsi formativi e di specializzazione professionale innovativi ed avanzati. Ma l'Aeronautica Militare non è solo questo. È una squadra granitica e coesa di eccezionali italiani, di professionisti di altissimo livello, di nostri concittadini dei quali essere orgogliosi. Specialisti, ingegneri, piloti, analisti, sperimentatori, controllori di volo e operatori di sistema, fucilieri dell'aria, incursori, astronauti. Un mondo di capacità, un mondo di professionalità. Il centenario dell'Aeronautica Militare è un punto di svolta, se non il suggello di un vero e proprio salto culturale che si è prodotto nel nostro Paese. Sarà per effetto dell'emergenza pandemica o della più grave crisi politica militare che ha investito il vecchio continente dal secondo dopoguerra. Ma avverto che vi è ormai piena consapevolezza di quanto la difesa sia parte integrante della nostra società e non potrebbe essere diversamente. I nostri cittadini sanno con certezza che, a prescindere dal colore azzurro, blu, verde o nero, quelle divise sono indossate proprio dalle persone a loro più care, figlie e figli, sorelle e fratelli, madri e padri. Essi sono sempre al loro fianco per vegliare sulla loro sicurezza e proteggere i valori fondanti della nostra società. Chi di noi non ha mai sognato di volare almeno una volta, almeno una volta nella vita, alla guida di questi velivoli splendidi e capaci di acrobazie incredibili? Personalmente mi sento un privilegiato perché ho avuto la possibilità di realizzare questo sogno. Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. Sono parole di Leonardo da Vinci, che ha concentrato il suo genio nello studio del volo e del dominio dell'aria. Volare è stato il momento più bello, esaltante, denso di emozioni della mia vita professionale. Guardare affascinato come del resto penso facciano tutti i piloti all'orizzonte, fin dove il mare e il cielo sembrano toccarsi, ci dà la sensazione di essere parte di un unico e meraviglioso ecosistema. L'aeronautica militare e le forze armate sono anch'esse un ecosistema unico, che è reso straordinario dall'armonia dei valori e delle specificità di tutte le sue componenti in una visione di sistema integrato. Siamo consapevoli che abbiamo un cammino da percorrere e che l'aeronautica militare, vanto delle nostre forze armate, sia un tassello di fondamentale importanza della deterrenza tecnologica che dobbiamo rafforzare, senza indugio eccedermente, per difendere il nostro Paese dalle gravi minacce alla sua sicurezza e ai nostri valori democratici. Voglio nuovamente ringraziare tutti gli ospiti e convenuti e naturalmente voi tutti, donne e uomini dell'aeronautica militare, in Italia e nei teatri operativi, grazie per il vostro prezioso e insostituibile impegno al servizio del Paese. Sono consapevole dei sacrifici che voi e le vostre famiglie affrontate per onorare una missione davvero speciale, che trova la più sentita gratificazione nel riconoscimento e nel pieno apprezzamento dei nostri concittadini e del Paese. Siate inorgogliosi. Viva l'aeronautica militare, viva le forze armate, viva l'Italia. Prende la parola il Ministro della Difesa. Reparto attento. Via riposo comandante. Reparto riposo. Innanzitutto rivolgo un saluto particolare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e lo ringrazio per la sua partecipazione che sottolinea l'importanza della cerimonia e del momento. Saluto il Presidente del Senato, Senatore Ignace La Russa. Lo saluto due volte così recupero la dimenticanza di prima. Saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio, Norello Giorgio Meloni, che ha voluto garantire la sua presenza oggi. Saluto il Vice Presidente della Camera, i Deputati Fabio Rampelli, il Professor Giulio Prosperetti, giudice della Corte Costituzionale, i Ministri, i Parlamentari, il Capo di Stato Maggiore della Difesa che, come avete sentito, è un pilota e quindi è di parte, nonostante che indossi la divisa della Marina, i vertici delle Forze Armate, le autorità civili, religiose e militari. Grazie davvero a tutti per aver scelto di testimoniare in prima persona la vicinanza alle istituzioni della difesa e all'aeronautica. Voglio salutare la bandiera di guerra dell'aeronautica militare, le bandiere di guerra ed istituto di Forza Armata che oggi sventolano insieme. loro ci ricordano i caduti dell'arma azzurra che in questi cento anni hanno dedicato la loro vita alla nazione. Sono loro la migliore testimonianza di quel senso del dovere, quella abnegazione, quella generosità che rappresentano i valori della difesa dell'Italia che prima richiamava il Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica. A tutti loro rivolgo un pensiero di gratitudine, come i caduti di ogni Forza Armata e i feriti nell'assolvimento del dovere. E saluto con uguale affetto i loro familiari che sopportano con dignità il dolore per la perdita dei loro affetti. Era una doverosa premessa, Signor Presidente. E infine saluto voi, uomini e donne dell'aeronautica militare. Oggi è il compleanno dell'arma azzurra che raggiunge il traguardo del secolo. Cento anni vissuti con la freschezza, l'ambizione e anche la spavalderia tipica di chi vola in alto a sfidare il cielo. L'aeronautica è una forza armata che dei giovani ha la passione per l'innovazione, l'entusiasmo dei grandi obiettivi, la rapidità d'azione, la capacità di superare gli schemi che intrappolano il pensiero e imprigionano i talenti. Dei giovani ha lo sguardo che non indugia al passato, ma che guarda sempre avanti. E questo centenario ne è la prova. Non è un punto di arrivo, ma la capitalizzazione di quanto fatto per raggiungere vette, anzi quote, sempre più elevate. In voi, nell'aeronautica, tutto parla di futuro. A partire proprio dalla memoria. Una memoria che non trattiene al suolo come una zavorra, ma spinge a volare ancora più in alto. Una memoria propulsiva. Ed è proprio la memoria delle sfide più recenti che l'aeronautica ha affrontato e vinto, il punto da cui voglio partire per descrivere una forza armata ricca di capacità e di coraggio, un patrimonio che riscalde i cuori. Penso al ponte aereo dell'Afghanistan, alla tempestività con cui abbiamo portato aiuto in Turchia e alla Siria. Straordinario sforzo collettivo, operativo, ma soprattutto umanitario, che ha reso onore a tutto il nostro Paese. Penso alla difesa dello spazio aereo italiano in atto, con l'impegno rilevante e persistente a protezione del fianco est e nord dell'Alleanza, che ha assunto maggiore centralità in funzione dell'aggressione russa all'Ucraina. Penso alla presenza continuativa in tutti i teatri operativi, dall'Iraq al Sahel, dai Balcani alla Libia, dal Mediterraneo orientale al Corno d'Africa. Penso alle straordinarie capacità di intervento in caso di calamità naturali, emergenze, ogni qualvolta ce la mettere in salvo vite umane in Italia e all'estero. Penso al contributo fondamentale fornito per contrastare la pandemia, ai continui trasporti di materiale sanitario, medico, farmaceutico, ai voli per riportare in Italia e dall'estero i nostri connazionali, alla capacità di biocontenimento, una prorogativa che il nostro Paese può vantare quasi in esclusiva nel panorama mondiale. Negli ultimi cento anni il mondo è profondamente cambiato, ma non solo cambiate le qualità migliori dell'aeronautica militare, il coraggio, la capacità di mettervi al servizio dell'avventura più grande, l'avvenire della nazione. Mi viene in mente una definizione splendida di Saint-Exupery, avviatore anche lui, oltre che grande letterato. Amare non è guardarci l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Ed è quello che l'aeronautica fa da cento anni. E anche solo per questo sarebbe da essere fieri dell'arma azzurra, della nostra arma azzurra. E tuttavia non è tutto. Non è tutto perché in questi cento anni avete saputo conquistare fatica dopo fatica, volo dopo volo, missione dopo missione, qualcosa che va oltre i successi professionali. Mi riferisco all'affetto degli italiani, al loro rispetto. L'aeronautica militare è un diamante che ha molte sfaccettature. È quella propensione al futuro che permette all'Italia di essere presente nell'aerospazio, con le nostre competenze, le nostre tecnologie, i nostri astronauti, eccellenza riconosciuta a livello internazionale. È quel condensato di capacità che ci fa essere uno dei paesi di punta nella ricerca sui voli suborbitali che rivoluzionavano il futuro dei trasporti aerei. È quel connubio di umanità e tecnica al servizio della vita che dà corpo alla speranza di tanti malati gravi, grazie al trasporto sanitario d'urgenza. Un'attività che ha permesso a tantissimi bambini di guarire, essere curati e riabbiacciare i propri genitori. È lo spettacolo delle frecce tricolori, che unisce orgogliosamente tutti gli italiani sotto il grande tricolore disegnato nei cieli, dei momenti più significativi in ogni momento significativo della nostra Repubblica. L'Italia è uno dei protagonisti della politica internazionale e deve restare tale. Per farlo deve restare al passo con le tecnologie più avanzate. Solo così potrà continuare a ricoprire il ruolo che lo rispetta anche nelle future cooperazioni industriali europee transatlantiche. È intenzionata a farlo e lo farà. Sto parlando di tecnologie di straordinario interesse, come l'intelligenza artificiale, il supercalcolo quantistico, la connettività 5G estesa, i sistemi energia diretta, solo per citare qualche esempio. Tecnologie che avranno ricadute importanti in tutti i settori industriali, che potranno contribuire a preservare le preziose competenze dei nostri giovani scienziati, ingegneri, fornendo loro sbocchi di ricerca. Penso alle sue parole, Presidente, che nel suo secondo discorso di insediamento del febbraio 2022 indico tra i compiti delle istituzioni quello di costruire un'Italia più moderna, puntando proprio sui giovani, che sentono sulle proprie spalle la responsabilità di prendere in mano il futuro del Paese. Quell'assunzione di responsabilità, quella modernizzazione, dipendono in buona misura dall'attenzione che, come comunità nazionale, saremo in grado di riservare alla formazione e alla ricerca. Ebbene, la ricerca è l'anima del nostro futuro e l'aeronautica militare e la difesa ne sono i massimi interpreti. Basta pensare allo straordinario salto tecnologico e strategico già avviato con i velivoli di quinta generazione e, guardando ancora in più in là, considerare l'impatto di progetti tecnologici avveneristici, come il G-CAP, che ci vedrà collaborare con Gran Bretagna e Giappone. È un orizzonte che chiama in causa le potenzialità tecniche e produttive di pensiero di un intero settore, anzi, di un intero Paese. Si tratta di garantire la crescita economica dell'Italia, allo stesso tempo la sicurezza dei cittadini, l'autonomia strategica della nazione e la salvaguardia della libertà, più in generale di garantire il progresso. Il moto dell'aeronautica, con valore verso le stelle, vorrei trovasse la sua piena consacrazione proprio nel cammino dell'Italia verso il futuro. Ho parlato fino a questo momento di valori e capacità che vi fanno meritare l'affetto degli italiani e il rispetto dei nostri alleati e partner. Sono sentimenti non vaghi, non sterili, ma con origini precise e riflessi concreti. Sono sentimenti che, per nascere, soprattutto per radicarsi, hanno bisogno di continuità, di ambizione, di principi che non si esauriscono, di lavoro che va al di là dei singoli e delle generazioni. Tutelare la nazione dal cielo è oltre. È quello che serve, è quello che siete in grado di esprimere. In cento anni ci sono cose che cambiano, e sono molte. Cambiano le tecnologie, cambiano le sfide, cambiano i modi di vivere. Alcune cose però rimangono. E tra ciò che rimane sono di poter rinnoverare l'aeronautica militare. Ho la certezza che tra cento anni, come diceva prima il generale Goretti, in un mondo ora difficile da immaginare, l'aeronautica militare sarà ancora qui, impegnata a difendere i cieli e a vigilare sullo spazio infinito. Gli italiani contano su questo, io conto su questo, e per questo vi ringraziamo. Viva l'aeronautica militare, viva le forze armate, viva l'Italia. A ora luogo, la consegna della decorazione alla bandiera di guerra dell'aeronautica militare. Reparto, attento. Compagnia, presenta. Armi. Bandiera al centro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Compagnia, fianco, armi. Reparto, riposo. Cavaliere dell'ordine militare d'Italia, alla bandiera di guerra dell'aeronautica militare, con la seguente motivazione. Reparto, attento. Nei suoi cento anni di storia, l'aeronautica militare ha operato a protezione delle popolazioni oppresse, al mantenimento della pace e della stabilità internazionale, intervenendo con i propri reparti, spesso sotto pesante minaccia, affrontando con coraggio, senso di responsabilità e straordinario valore tutte le missioni assegnate, sempre e dovunque, e anche a sostegno delle componenti terrestri e navali, combattendo con valore, spirito di abnegazione e generosità. Per l'audacia degli equipaggi, nei teatri operativi di tutto il mondo, sostenuta dalla perizia e dal generoso impegno del personale in azzurro, si distingueva in operazioni di difesa aerea, neutralizzazione di obiettivi militari ostili, pattugliamento, guerra elettronica, rifornimento in volo, ricognizione, abile struttura logistica di aderenza, contribuiva con i propri mezzi e migliaia di missioni di volo per portare aiuto generoso con l'azione civile in Italia e in ogni parte del mondo, mostrando rarissimo esempio di dedizione alla patria e ai più ideali di civiltà. Luminoso patrimonio di valori, di elevata professionalità, altruismo e senso del dovere che tutto il personale dell'aeronautica militare ha sempre onorato, meritando l'ammirazione, il rispetto, il plauso e l'unanime riconoscenza della comunità italiana e internazionale. Cieli d'Italia e del mondo, 1923-2023. Compagnia, presentat, art! Compagnia, presentat, art! Reparto, rinno! La bandiera di guerra dell'aeronautica militare riprende posizione nello schieramento. Reparto, arte! Compagnia, presentat, art! Bandiera posto! Compagnia, presentat, art! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore e signori, in questa giornata non poteva mancare il servolo dei nostri elicotteri, dei nostri aeroplani a un omaggio che viene fatto al cielo di Roma, che viene fatto ai cento anni dell'aeronautica militare, ma immaginiamo che oggi il cielo di Roma rappresenti i cieli di tutta Italia, di ogni singola città, di ogni singolo paese, di ogni singolo borgo. I nostri mezzi in questo momento sono 6 HH-101, stanno passando sopra di noi, stanno passando sopra Piazza del Popolo, ma immaginiamo che in tutta Italia ci siano al momento 6 HH-101. Più tardi vedremo altri assetti, vedremo aeroplani e concluderà tutto con una bellissima, gradita sorpresa. Questo tipo di aereo è un aereo triturbina capace di operare ogni tempo per il supporto alle operazioni speciali e per il cosiddetto personal recovery, ovvero il recupero di persone militari e civili in difficoltà in area di crisi. Tra poco e quindi sempre con lo sguardo puntato verso il cielo, le teste verso il cielo, un altro assetto dell'aeronautica militare, un assetto molto versatile, è il P-180, ne passeranno 4. È un aereo costruito dall'italiana Piaggio Aerospace, in dotazione anche alle altre forze armate e corpi dello Stato. Ha due motori turboelica con elica spingente posizionata nella parte posteriore delle semiale, che riducono così il rumore all'interno della cabina. La formazione dei P-180 è composta da equipaggi del 14esimo stormo e dal centro addestramento equipaggi multicrew, entrambi con sede in quel di pratica di mare. Il 14esimo stormo impiega tale velivolo per effettuare trasporto di personale anche del Dipartimento della Protezione Civile e per effettuare i controlli in volo e delle radioassistenze e degli ausili alla navigazione aerea. Il CAI Multicrew invece impiega il P-180 per l'addestramento dei piloti militari. CentroShin Germano 트�ano CentroShin Germano CentroShin Germano CentroShin Germano Attenti ora perché sta per sorvolare il cielo di Piazza del Popolo una formazione di velivoli composti da due C-130J, quattro C-27J e un P-72A. Il C-130J della Lockheed Martin e il C-27J della Leonardo sono velivoli da trasporto in dotazione alla 46esima brigata di Pisa utilizzati soprattutto per collegamenti aerei con i teatri operativi fuori area, trasporti in biocontenimento e trasporti tattici. Sono quegli aerei i protagonisti nei teatri fuori dai confini nazionali in zone colpite da calamità naturali per il supporto alle popolazioni in situazioni di crisi da cui vediamo anche lanciarsi paracadutisti. Pensate che il C-130J può caricare fino a 112 i paracadutisti nella versione allungata e il C-27J fino a 40 ed entrambi hanno un sistema di rifornimento in volo. Il P-72A della società Leonardo è un velivolo multiruolo capace di operare a bassa quota, a varie latitudini, con diversi fattori climatici, con qualsiasi condizione meteo per assolvere le funzioni di sorveglianza marittima ed elettronica insieme alle altre istituzioni dello Stato e svolge anche attività di ricerca e soccorso per la salvaguardia della vita umana. Anche questo velivolo è dotato di un sistema di autoprotezione con la possibilità di impiego in territorio ostile. La particolarità nell'impiego di quest'aereo è la presenza di un equipaggio interforze. Infatti a bordo ci sono ufficiali e sotto ufficiali dell'aeronautica e della Marina. Grazie a tutti. Grazie. Del G550 Conformal Airborne Early Warning e delle M350. Il Gulfstream è un sistema multisensore con funzioni di sorveglianza aerea, appunto, comando, controllo e comunicazione. E dal 2016 l'Italia ha acquisito la capacità proprio di sorvegliare dall'alto lo spazio aereo, riuscendo a ricollocarsi in poco tempo in diverse parti del paese o se necessario nel mondo, grazie alla consistente quantità di carburante che può essere imbarcato. Può essere impiegato in contesti di crisi o in situazioni particolarmente delicate come il controllo preventivo del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Nello specifico può creare le cosiddette bolle di sicurezza. In tale circostanza il suo compito consiste nel verificare l'impermeabilità dello spazio aereo e la possibilità di poter allertare la difesa aerea nel caso di minacce. L'equipaggio è composto da piloti del 71esimo gruppo del 14esimo stormo di pratica di mare, da controllori della difesa aerea missilistica integrata nelle vesti di gestori della console. Questo avviene sia nelle missioni coadiuvanti, nelle missioni di sorveglianza passiva e da personale appartenente al reparto supporto tecnico-operativo Guerra Elettronica, meglio conosciuto come Restogge. Grazie a tutti. Ed ora una formazione dei velivoli bianchi del 31esimo stormo di Ciampino. Si inizia con l'Airbus A319CJ, quello più grande per capirci, adibito al trasporto delle autorità dello Stato. È il primo velivolo dell'aeronautica militare certificato per eseguire avvicinamenti ILS Cat 3. ovvero in assenza di visibilità verticale e orizzontale. Ed è in grado di atterrare e fermarsi in pista automaticamente. Si passerà poi ai Falcon 50 e al Falcon 900. Sono molto simili se non fosse per le dimensioni. Il Falcon 50 è in carico al reparto dal 1985. È uno degli aeroplani più anziani in forza armata, ma ha ancora adibito ai trasporti sanitari, in favore di ammalati e traumatizzati. Ha tre motori e a seconda dell'impiego può cambiare configurazione. Da VIP a nove passeggeri, a trasporto sanitario con due barelle e cinque passeggeri. Il Falcon 900 nelle due versioni EX e Easy è adibito come il Falcon 50 ai trasporti sanitari, con una prontezza di poche ore, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. In versione trasporto passeggeri, le due versioni possono ospitare rispettivamente 14 e 16 passeggeri ad esclusione dell'equipaggio composto da quattro persone. In versione trasporto da quattro persone. In versione trasporto da quattro persone. Dopo il passaggio dei velivoli del trentunesimo stormo torniamo, quindi aerei passeggeri se vogliamo, torniamo a aerei da combattimento, stanno per arrivare sul cielo di Roma due formazioni, ognuna composta da quattro tornado. Il tornado è un velivolo da combattimento bi-reattore la cui caratteristica più evidente è l'ala geometria variabile, è con noi in aeronautica da più di 40 anni ed è stato costruito dal consorzio trinazionale Panavia comprendente Italia, Regno Unito e Germania ed è stato utilizzato durante la prima guerra del Golfo dei primi anni 90. È una macchina che viene costantemente aggiornata per mantenere la validità operativa, anche perché i suoi sistemi sono all'avanguardia e gli permettono tutt'oggi di essere impiegato in tutti gli scenari. Attualmente dopo essere stato impiegato presso diversi stormi dell'aeronautica militare, come il trentasesimo stormo di Gioia del Colle o il cinquartesimo stormo di Piacenza, è attualmente in servizio presso il sesto stormo di Gedi, vicino Brescia. In funzione delle aree di operazioni il tornato ha assunto colorazioni diverse, lo ritroviamo con la livrea un po' più scura agli inizi della sua carriera, poi nella versione grigia, ma lo ritroviamo anche con una colorazione che è simil sabbia, lo possiamo ammirare qui sotto, è in esposizione in Piazza del Popolo, una colorazione che è stata evidente quando si sono trovati nelle aree più calde in termini di temperature, ma anche in aree desertiche. Ecco il tornado dell'aeronautica militare. Grazie. Grazie. E dopo il passaggio nella formazione 100, tra un po' vedremo passare nuovamente l'Eurofighter e il T346. L'Eurofighter, o EFA, è un velivolo caccia bimotore di ultima generazione, impiegato nel settore della difesa aerea ogni giorno dell'anno, sopra il nostro cielo. Ricordiamo che l'aeronautica militare, insieme ad altri alleati della Nato, con gli EFA svolge attività di air policing, garantendo la difesa aerea a quei paesi che non hanno questa capacità. Anche oggi, una cellula di Eurofighter assicura la difesa dei confini nato in Romania. Il T346 è un birattore della Leonardo, addestratore per i piloti destinati ai velivoli di ultima generazione. In dotazione al 61esimo stormo di Galatina, è utilizzato sulla base di decimo manno in Sardegna, presso l'International Flight Training School, recentemente costituita per la fase avanzata dell'addestramento dei piloti, che saranno impiegati sui moderni velivoli caccia. Questo addestratore, vera nicchia di eccellenza della nostra industria, non è soltanto un velivolo, ma anche una complessa piattaforma integrata, che include oltre all'aeroplano stesso, un segmento di terra, composto da vari sistemi di simulazione. I piloti, nel loro percorso addestrativo, quindi, voleranno simultaneamente una parte reale in volo, associata a una parte virtuale attraverso i simulatori, e ad una parte di attività detta constructive, che consiste nella ricostruzione di scenari operativi generati da computer. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sembra quasi che parte dei figli dell'aeronautica militare, tutti noi qui, ma anche coloro che solcano il cielo, vogliano rendere l'omaggio a mamma aeronautica. Io la vedo così, credo che anche voi la vediate così. È un omaggio ad una mamma. E i nostri piloti, i nostri velivoli, oggi, fanno anche questo. Tra poco arriverà una formazione composta dal Boeing KC 767A, insieme con due F-35, due EFA e due T-346. Il 767A è un velivolo bimotore adibito al rifornimento in volo e, in caso di necessità, può essere convertito a trasporto passeggeri, trasporto materiale o combinazione dei due. Presenta un sistema di rifornimento in volo sia per rifornire che per essere rifornito. Lo abbiamo conosciuto in uno dei momenti più bui degli ultimi anni, quando i nostri piloti, proprio con il K767, sono andati a recuperare i nostri connazionali a Wuhan, in Cina. L'F-35 è invece l'ultimo arrivato. È un velivolo monomotore di quinta generazione, dotato di bassa osservabilità, che rappresenta oggi l'assetto di più avanzata tecnologia, scelto peraltro da molte nazioni per i compiti istituzionali. L'aeronautica militare ne possiede due versioni, una a decollo e atterraggio conversionale e un'altra a decollo, se vogliamo più corto, addirittura a decollo e atterraggio verticale. Abbiamo detto prima che il compito principale è la difesa del nostro cielo, dei nostri cieli. Ebbene, gli F-35 e gli Eurofighter, nonostante il rumore che faranno nel momento in cui passeranno, lavorano, agiscono di giorno, di notte, per tutto l'anno, per la salvaguardia, per la difesa del nostro cielo e del nostro territorio. Sono le nostre sentinelle silenziose che però vengono chiamate ad operare in brevissimo tempo per andare a intercettare qualsiasi minaccia possa inficiare il nostro cielo, i nostri cieli, il nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora abbiamo assistito al solvolo di ben 74 velivoli in servizio dell'Aeronautica Militare che oggi, lo ribadiamo, spegne le sue prime cento candeline. Manca forse qualcosa? Credo che manchi qualcosa. Tra pochi istanti, sopra di noi, quindi occhi al cielo, vedremo il fiore a rocchiello dell'Aeronautica Militare, la punta di diamante, il nostro motivo di orgoglio nazionale, io direi mondiale, l'esempio dell'eccellenza dell'addestramento e del lavoro di squadra del personale della Forza Armata. I piloti di questo gruppo provengono dai reparti operativi della Forza Armata, segno evidente di elevata professionalità e addestramento. Nel 2021 hanno compiuto 60 anni e hanno festeggiato con una manifestazione di due giorni di esibizione con quattro pattuglie acrobatiche. Mi viene l'emozione perché attraverso questo tricolore nel periodo più buio ci hanno abbracciato tutti. Ecco a voi le frecce tricolori! Ci hanno unito nel loro abbraccio durante la pandemia, hanno toccato tutti i capoluoghi di regione, abbiamo avuto tutti modo di vederli o dal vivo o in televisione. E credo che l'emozione pervada tutti, pervada tutti ogni volta che questo tricolore lungo chilometri viene dipinto nel cielo. Ma quello che hanno fatto non è un unico passaggio, ora ne seguirà un altro. La formazione si trasformerà a rumbo, attraverserà Piazza del Popolo e verrà verso il Pincio. Il tempo di compiere una Snyder, di effettuare la trasformazione e tra pochi secondi le frecce tricolori saranno nuovamente sopra le nostre teste. Quindi gli occhi al cielo, telefoni, telecamere, fotocamere e di nuovo le frecce tricolori. Grazie. 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 Il Presidente della Repubblica prende il congetto dalle autorità presenti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.